1894 Alfred de Refus condannato ai lavori forzati 1947 l'Assemblea Costituente approva la nuova Carta Costituzionale 1908 nasce Giacomo Manzoni meglio conosciuto come Manzù commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio direttore dell'Avvenire quel rapimento non lo capì nessuno Fabrizio D'Andrea e Dorighezzi presi nel cuore di quella Sardegna che tanto amava